Ricevere un giocattolo è sempre una festa per un bambino e non solo a Natale. Attenzione allora perché la festa rimanga tale. I giocattoli devono rispettare alcuni fondamentali requisiti di sicurezza ed essere utilizzati correttamente. È buona norma inoltre sceglierli in base all'età perché rispondono al meglio alle esigenze di sviluppo del bambino. Questi principali controlli in fase di acquisto. Verificare la presenza della marcatura CE, delle istruzioni in italiano, delle iscrizioni obbligatorie, cioè nome o ragione sociale e indirizzo del produttore. Indicazione sull'età e sull'uso. Anche questi sono elementi immancabili in un giocattolo a regola d'arte. Accertarsi che i giocattoli elettrici funzionano con un trasformatore di corrente massimo 24 volt. E nei giocattoli a batteria il vano batterie deve essere inaccessibile al bambino piccolo. Verificare l'assenza di punte e angoli, parti taglienti di piccole parti che possono essere ingoiate dai bambini molto piccoli e di materiali nocivi. Possono provocare lesioni e altri rischi per la salute. Controllare che i giocattoli sonori, incluse pistole e armi giocattolo, non producano rumori troppo forti, potrebbero risultare dannosi all'udito del bambino. Quando il giocattolo entra in casa, inoltre, occorre eliminare i sacchetti di plastica della confezione. Possono causare soffocamento se usati in modo improprio. Tenere separati i giocattoli per bambini con età diverse. Quelli con piccole parti, ad esempio, possono essere molto pericolosi se usati da bimbi piccoli. In occasione del Natale e dell'immancabile acquisto delle decorazioni luminose, ricordiamo che, oltre alle normali precauzioni, va verificato bene se il loro uso è consentito per interno o per esterno. Vanno seguite attentamente le avvertenze e le precauzioni d'uso ed è necessario conservare i dati del fabbricante. Questi altri consigli si trovano sulle guide disponibili su richiesta all'indirizzo tutela.fedepubblica.me.camcom.it Maggiore informazione si possono trovare sul portale della Camera di Commercio www.me.camcom.it sezione tutela del consumatore e dell'impresa. La Camera di Commercio di Milano svolge attività di vigilanza sulla conformità dei prodotti presenti sul mercato attraverso il servizio accertamenti a tutela della fede pubblica a cui è possibile denunciare eventuali anomalie.